ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia stagione qui su f1 2021 siamo pronti per affrontare il gran premio di olanda siamo ormai arrivati al giro di boa di questa stagione 1 quella che vedete in sovripressione la classifica di campionato c'è una lotta accesissima per il titolo fra bottas e leclerc e lewis hamilton aperta ancora di più dal ritiro che ha rimediato valteri nel corso del gran premio del belgio molto sottotono l'airbull rispetto alle prestazioni che ottengono soprattutto per stappen nella realtà quanto noi abbiamo cinque punti ottenuti grazie al delirio che è successo in spagna e in canada avremmo potuto tenerne due in più in azerbaijan perché anche lì c'è stato delirio ma mi si è rotta la macchina tipo sei giri dalla bandiera scacchi la notizia negativa ormai non è più una notizia perché da parecchio tempo che è così abbiamo una macchina così scarsa che anche la haas la seconda peggior macchina ci dà un secondo e mezzo al giro quindi siamo proprio senza nessuna speranza se non succede il delirio io e marcher lo finiamo ultimi a a un minuto dalle haas da un minuto da manzepin c'è la situazione è veramente drammatica qui in olanda però storicamente su f1 2020 di deliri ne sono successi parecchi i piloti della ya non sanno stare in pista qui in olanda adesso non so se l'hanno risolta sta cosa ma mi aspetto veramente tanti errori dei piloti di guida proprio dei piloti avversari devo appellarmi a ritiri safety car per restare in gara senza beccarmi un giro da tutti vedete quelle che sono quelli che sono gli sviluppi portati dalle varie scuderie noi comunque poco a poco stiamo risalendo e anzi in questa gara qui noi abbiamo migliorato mentre l'asse è rimasta ferma quindi in questa gara qui il nostro distacco si è ridotto anche se comunque altissimo da notare la ferrari che in un modo o l'altro si è portata in seconda posizione quindi la ferrari a tutti gli effetti adesso c'è una macchina che è in grado di potersi di poter permettere alle clerche di giocarsi il titolo con valteri voltas staremo a vedere quello che succede eccoci qui in qualifica per tutta la prima metà di campionato ho utilizzato sempre e solo il setup bilanciato predefinito per simulare il fatto che siamo ancora una squadra nuova e non abbiamo ancora la capacità di mettere a punto la macchina come si deve dalla seconda metà di campionato ho già detto che da qualche gara che avrei utilizzato anche gli altri setup di base e poi dalla stagione 2 in avanti utilizzerò i setup veri e propri personalizzati per questa gara qui in olanda ho scelto il setup a deportanza maggiore che da più velocità in curva e ho fatto qualche prova comparativa con il setup bilanciato predefinito e questo si è rivelato il più efficace è però se mi sto migliorando al terzo giro con gomme già consumate vuol dire che c'è margine quando avrò gomme nuove avrò un certo margine mi eguaglia addirittura più 0 0 0 ripeto il tempo di prima al millesimo ultimo giro qua in qualifica sono proprio in scia a nikita amazepin che ha appena messo segno mi sa il suo ultimo tempo adesso dovrebbe essere credo nel giro di rallentamento l'ho usato almeno per prendere un minimo di scia e avere qualche centesimo di vantaggio anche se poi qui se sei nel giro di rallentamento amico però dovresti darmi strada invece mi dà comunque un po' di scia ancora mi dà guardate quanto mi sta facendo guadagnare solo che qui adesso magari mi si inchioda davanti e vedete quanto sottosterzo che mi causa facendomi perdere un po di terreno qui sono finito un po sul cordolo è peccato vado a perdere qualche centesimo dovrei migliorarmi di circa due decimi per battere il tempo del mio compagno di squadra artem marchelov mamma mia c'è nel mio giro veloce faccio fatica a tenere il ritmo di manzepin che è nel giro di rallentamento è incredibile adesso lo vedete che è nel giro di rallentamento perché entrerà i box vedete che entra i box adesso marchelov eh però comunque mi sto migliorando in qualche modo pochi millesimi che forse me li regala artem me li regala lui me li regala lui questi cinque millesimi col cavolo che è non ho neanche visto se mi sono migliorato per davvero in realtà però cioè non c'è speranza qualifiche finite vediamo un po dove mi sono qualificato chiaramente ultimo ah peccato però pochissimi millesimi dartem marchelov se non mi saltava la marcia all'uscita della terz'ultima curva quei pochi millesimi sicuramente li avrei li avrei tirati giù e comunque sia è impietoso il fatto che nikita manzepine nel suo giro di rallentamento fosse veloce e praticamente andava quanto sono nato io nel mio nel mio best lap e manzepine era nel giro di rallentamento e manzepine stesso si becca a sei decimi dall'altra ass quella di mic schumacher quindi è veramente desolante questa situazione però io ho fatto quasi lo stesso tempo di artem quindi quello che può dare la macchina è questo purtroppo questo è quello che passa il convento penso che almeno per tutto il resto della stagione uno questo gap sarà praticamente irrecuperabile quanto agli eliminati abbiamo un eliminato il lustre pierre gasly che è stato eliminato dalle due alfa romeo che si sono salvate aveva tron dell'alfa nelle ultime gare ha migliorato parecchio ormai non è neanche più da considerare un team scrauso come noi l'ass e la williams perché l'alfa cos'è adesso la sesta miglior macchina la settima miglior macchina insomma si è tirata un po su ed è stato eliminato quindi pierre gasly in si scusa ma 1 10 0 ha fatto pierre gasly e 1 10 0 doveva essere dietro ad alonso e allora forse esploso allora forse gasly è saltato in aria no neanche non capisco non capisco perché pierre gasly è 1 10 2 1 10 0 quindi anche il suo secondo miglior giro era comunque assolutamente sufficiente per per qualificarlo non c'è una spiegazione razionale al fatto che pierre sia stato eliminato di solito succede questo quando un pilota esplode disintegra la macchina e quindi però è no ma è il sedicesimo doveva passare è il sedicesimo il pilota nel cuno il sedicesimo doveva passare non doveva essere eliminato quindi qualcosa è successo sarà esploso sarà in qualche modo non in grado di effettuare il q2 però nella voce direttore di gara incidenti non c'è niente vabbè vabbè sto gioco mi sa che è ancora meno senso di f1 2020 comunque eliminati insieme a gasly quanto pare ci sono rass e schumacher latifi mazepin marchilov e io pole position da parte di valteri bottas ha dato 37 millesime luis emilton ancora una volta bottas più veloce di emilton ottima prestazione delle due ferrari con le clerk in seconda fila davanti alle due red bull vabbè l'altronde le ferrari adesso sono competitive ci sta che si qualifichino così avanti qui nel gioco andiamo gasly è risalito di due posizioni quindi ci sono delle penalità e forse ne beneficeremo anche noi no non beneficiamo neanche di una tuta con texture d'alta risoluzione guardate lì che schifo di tuta con i tagli massimi e non so cosa fare ci possiamo permettere neanche una tuta strategia di gara da un lato il gioco mi dice che le gomme soft durano 25 giri dall'altro lato mi dice che se faccio la tattica a una sosta facendole durare 29 giri guadagno parecchi secondi rispetto alla tattica a due soste quindi una cosa un po contraddittoria però storicamente sul f1 2020 qui in olanda conviene fare una sola sosta quindi mi fido del fatto che le gomme soft abbiano davvero una durata così elevata e si anche perché se metto le gomme medie a inizio gara mi becco un secondo giro anche da marchio quindi almeno con queste gomme riuscirò a tenere almeno il passo nel mio compagno di squadra per il primo stint tutto pronto per la partenza del greco d'olanda c'è marchio che ha gomme medie ha sfasato la sua strategia nei miei confronti partito a cannone arte ma subito bruciato nikita mazepine lo brucio anch'io attaccandolo all'interno qui di curva 1 mazepine che ha gomme soft quindi importante che ce lo siamo messi entrambi dietro adesso qui vediamo se all'esterno riesco a guadagnare qualche posizione vado un po largo però e marchio forse no è la tiffi allora marchio me lo sono messo dietro ottimo è importante questo perché marchio ha gomme più dure delle mie quindi è più lento di me e io me lo sono messo dietro e c'è anche mazepine dietro quindi devo cercare anche di guadagnare qualcosa su nikita mazepine almeno fino a quando non andrà a superare marchio vediamo se anche quest'anno c'è il bug dei piloti che alzano il piede in maniera inspiegabile in percorrenza dell'ultima curva c'è anche quest'anno avete visto quanto ho guadagnato nell'ultima curva perché io la faccio in pieno gli altri la fanno frenando praticamente ho guadagnato così tanto da aver passato la tiffi è quasi come se io avessi il drs lui no invece il drs chiaramente non ce n'è ancora nessuno è importante anche sorpasso su nicolà perché pure lui ha gomme medie e quindi meno prestazionali intanto cosa c'è un danno al alla posteriore ma forse drs forse un guasto drs non ho toccato niente sentiamo col nostro amico condizioni veicolo e si non si è capito molto non ha parlato né di drs né di danni all'alla posteriore ricordiamo che il nostro amico giapponese cioè non abbiamo i soldi per un ingegnere di pista e quindi non è che abbiamo preso un ingegnere giapponese perché l'ingegnere giapponese costa qua come e di più rispetto a un italiano ma noi abbiamo preso un giapponese una persona giapponese l'abbiamo preso l'abbiamo messo al muretto a sussurrarmi delle cose a caso via radio anche se spesso e volentieri quello che dici si capisce benissimo perché ogni dieci parole in giapponese ce ne infila quattro in inglese non so perché e quindi di più delle volte si capisce si capisce quello che dice drs zone amico mio ma se dire se non ce l'ho ce l'ho allettone rotto sia che drs per un po non mi funzionerà fa quello che può il nostro amico giapponese fa quello che può qui dietro grande lotta fra marchio mazzepin con mazzepin che ha le gomme più morbide è una macchina più veloce marchio cerca di resistere ma mazzepin è completa sorpasso all'esterno e qui l'ingegnere mi ha detto chiaramente che ciò il drs non funzionante adesso è ufficiale il mio drs non funziona ci ha messo tre quattro giri per accorgersene nostro amico giapponese ma non possiamo biasimarlo non è un ingegnere vero e proprio e si fa capire nonostante io non sappia una parola di giapponese o quasi lui si fa capire lo stesso quindi questo è un enorme punto a suo favore comunque intanto la tifi non riesce a essere pericoloso nei miei confronti questa è una sorpresa perché la williams c'è anche con le gomme medie dovrebbe passarmi sopra la tifi invece non ce la fa questo è un buon segno forse su questa pista in configurazione da gara non siamo proprio così lenti magari almeno con con mazepin me la potrò forse anche giocare mentre la tifi penso che ho in pista o di strategia ma prima o poi comunque mi passerà una macchina troppo superiore infatti vedete che vado largo già qui qui c'ho una gomma anteriore surriscaldata e ho perso immediatamente grip infatti la tifi mi supera adesso purtroppo non avrò neanche il drs per poter cercare di riprendermi la posizione però forse potrò sfruttare il bug dell'accelerazione dei piloti della ia lungo l'ultima curva vediamo vediamo un po la tifi cosa fa se alza il piede no stavolta no stavolta ha accelerato normalmente nicola la tifi io il drs purtroppo non ce l'ho perché è rotto e quindi mi tocca accettare il sorpasso subito dal pilota williams ma vedremo vediamo se riesco a riesco stargli attaccato almeno per un po ci sono maniere gialle lì dietro potrebbe essere successo successo qualcosa a mazepin o a marchi love marchi love ovviamente vediamo ama esploso arte marchi love o come ha fatto pensavo ero sicuro fosse un guasto tecnico invece no ha trovato il modo di esplodere anche così da solo e sia sua discolpa posso dire che la mia non è certo la macchina più docile e facile da guidare però porca miseria anche stavolta non è la prima non è neanche la seconda volta che succede bandiere gialle lì davanti attenzione ci potrebbe essere un ritiro da parte forse di una mercedes bottas ed è guasto tecnico clamoroso guasto tecnico per valteri bottas che era primo e si deve ritirare quindi un secondo zero di fila per il finlandese clamoroso colpo di scena in ottica mondiale valteri bottas che era primo si ritira dando la prima posizione lui il semilton intanto qui è purtroppo mi tradisce la gomma anteriore sinistra surriscaldata erano già parecchi giri che non avevo grip in quella curva purtroppo quando si surriscalda sta gomma qui la macchina cioè non tiene proprio erano già ripeto 3 4 giri che in quella curva lì non avevo proprio appoggio era solo questione di tempo prima che commettesse un errore purtroppo neanche stavolta arriva una virtual o una safety car vera e propria per il ritiro di valteri bottas se non altro tengo una posizione su manzi pin e comunque stavo dicendo questa è una brutta botta per bottas in chiave ridata perché lui se mi torna adesso primo le clerche se non sbaglio dovrebbe essere comunque linee le prime posizioni quindi valteri rischia di trovarsi terzo il campionato dopo questa gara a meno che non esplodano anche Hamilton e Leclerc ma Zeppin ne ha di più in questa fase di gara quindi la cosa più intelligente da fare è dargli strada se passa non vorrei addirittura frenare per dargli strada perché così adesso lui andrà più forte senza di me davanti e io andrò più forte proprio perché avrò lui davanti che mi darà scia e drs andremo entrambi più forte e quindi ci metteremo più giri prima di essere doppiati perderemo meno tempo dal latifi e gli altri piloti che ci sono davanti anche se non è il mio compagno di squadra comunque vale la pena collaborare per cosa più importante ritardare il più possibile il doppiaggio e anche per perdere meno decimi da Nicola Slatifi tanto in teoria non mi dovrebbe scappare via ho visto che ne ha di più ok però io con scia di rs e con il bug dell'ultima curva dei piloti della IA che rallentano anziché accelerare non mi dovrebbe scappare via infatti ma Zeppin ritorna in pista ancora con gomme soft quindi si dovrà fermare due volte in questa fase di gara in teoria dovrebbe andare molto più forte di me ma in pratica si trova proprio in mezzo ai leader della gara che lo devono doppiare quindi dovrà spesso e volentieri rallentare per farsi doppiare e quindi non potrà sfruttare al massimo la prestazione delle sue gomme nuove senza contare che ha anche una sosta in più di me da fare 29esimo giro va dei box per la mia prima e unica sosta chiaramente ma Zeppin è già passato avendo montato gomme morbide parecchi giri prima di me ne ha fatto quindi l'undercut davanti a me ma lui ha un'altra sosta da fare io invece con i pit sono a posto attenzione ma Zeppin va ai box proprio nel momento nel giro in cui ho subito tre doppiaggi quindi ho perso tempo ulteriore ci sono circa 14 secondi di distacco fra lui e me dovrei rientrare davanti io comunque vediamo un po ma Zeppin sta uscendo dai box e occhio che è tirata occhio che è tirata è di poco di poco veramente si stava in pista altri due tre giri ma Zeppin forse mi sarebbe riuscito a rientrare davanti sono quindi davanti al pilota russo della haas con gomme medie solo che lui le ha appena montate le mie invece sono più vecchie vediamo un po di quanto è abbastanza adesso sicuramente nikita ma Zeppin ha un vantaggio prestazionale e lo avrà fino al traguardo però è dietro di me e mi deve superare in pista se vuole la posizione intanto fra i piloti che mi hanno doppiato nel giro scorso c'era anche luis Hamilton che mi ha quindi doppiato per la seconda volta addirittura Hamilton che poi sta doppiando anche l'alfa tauri che sono in decima e non la posizione quindi lui Samilton sta praticamente correndo in solitaria dopo il ritiro di botta Samilton sta dominando assolutamente dominando la gara perché dietro non c'è neanche l'ombra del pilota che è in seconda posizione segno che lui sia probabilmente un vantaggio enorme un vantaggio enorme me lo dà anche il bug vedete quanto guadagno nell'ultima curva che io faccio in pieno e gli avversari no e quindi anche consigli rs ma Zeppin non riesce ad attaccarmi lungo il rettilineo principale attenzione c'è il contatto nikita ma Zeppin mi ha preso mi ha colpito la fiancata e anche sul F1 2020 capitava spesso di subire dei contatti con in questa curva qui con Mazzeppin che non ha praticamente frenato non ha danneggiato la macchina neanche lui però Mazzeppin con quelle gomme e quella macchina dovrebbe riuscire a superarmi senza nessun problema non dovrebbe neanche avere bisogno di fare queste scorretezze qui arriva adesso il momento di farmi doppiare dalle due Ferrari che sono in seconda e terza posizione Sainz davanti a Charles Leclerc ma Zeppin ai box ma Zeppin va ai box nonostante non abbia rimediato danni dal mio dal contatto che ha avuto con me o forse si è toccato con qualche doppiato con qualche pilota che lo ha doppiato era sprofondato quasi quattro secondi di ritardo una manichitta ma Zeppin perché si era fatto doppiare non solo dalle due Ferrari ma anche dai quattro e cinque piloti che sono lì dietro alle due Ferrari non penso che sto pitolo sta facendo per il contatto che ha avuto con me visto che non ha assolutamente danneggiato la macchina adesso ha montato gomme soft ok ma è dietro di quasi 25 secondi solo che aveva un vantaggio di poco superiore a 20 secondi su Nikita Mazzeppin avevo dietro un serpentone incredibile in macchine che mi dovevano doppiare avrei quindi perso parecchio tempo avrei perso forse almeno 3 4 secondi solo per agevolare tutti i doppiaggi che dovevo subire e allora faccio così vado ai box e metto un set di gomme morbide e morbide medie nuove rientro ampiamente davanti a Nikita Mazzeppin quindi adesso mi posso difendere quasi a darmi pari perché ok io ho gomme medie lui gomme morbide però le sue gomme morbide tempo 10-15 giri e diventeranno più lente delle mie gomme medie perché secondo me se restavo in pista con gomme medie usate e perdendo anche 4-5 secondi per farmi doppiare da tutto quel serpentone di macchine secondo me Nikita Mazzeppin avrebbe potuto raggiungermi tanto sono in lotta solo con lui non ho nessuna possibilità di di lottare con nessun altro pilota quindi devo fare la mia strategia basandomi su Nikita Mazzeppin incredibile intanto è arrivato Lewis Hamilton a doppiarci per la terza volta io e Mazzeppin siamo a tre giri da Lewis Hamilton beh d'altronde il primo doppiaggio è arrivato intorno al ventesimo giro siamo al cinquantottesimo del terzo doppiaggio ci può anche stare attenzione qui però commetto un errore forse pizzico la parte esterna del cordolo con la ruota posteriore mi supera Nikita Mazzeppin sono andato forse un pelo troppo largo no no non è vero neanche è strano allora che mi sia partita così se io pensavo di essere finito con la ruota posteriore dopo il primo cordolo nello scalino che c'è fra il primo secondo cordolo invece no invece davvero non capisco il motivo per cui ho perso la macchina allora dai mettiamo un po di pepe a questa gara Nikita Mazzeppin mi ha superato e ha il potenziale per andarsene via ma io ho il potenziale per passarlo lungo il rettilineo principale anche se qui ho parecchio sottosterzo vediamo vediamo che non è così scontato il mio controsorpasso qui ha rallentato un po Nikita Mazzeppin ma non riesco a prenderlo e attenzione allora attenzione perché devo cercare assolutamente di restare incollato a Mazzeppin per provarci magari al prossimo giro o comunque negli ultimi giri quando in teoria le mie gomme dovrebbero diventare più efficaci delle sue nel primo stint di gara io con gomme medie contro le sue soft andavo praticamente più forte io quindi penso di avere una possibilità nei suoi confronti è qui però c'è il testa coda no ma due volte di fila in questa curva qui ma perché ma che roba strana giro prima in ingresso questo giro qua in uscita ma perché se ne parte via così la macchina avrà successo anche una volta inizio gara è peccato peccato ma davvero non mi spiego questi queste perdite di controllo le gomme sono in temperatura sono nuove la macchina non è danneggiata o forse lo è vediamo è che magari ho danneggiato il fondo senza no 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 la macchina è perfetta è due volte di fila ultime curve di questo gran premio di olanda luis emilton ha dominato mentre io dopo il testa coda sono finito in una selva di di doppiaggi che mi hanno fatto poi perdere completamente il ritmo addirittura mi ha doppiato persino mick schumacher persino doppiato da una haas se non altro vado a migliorare di parecchio il mio best lap proprio nel corso dell'ultimo giro ma è una magra consolazione arriva un ultimo posto diciannovesimo posto e e quindi luis emilton domina il gran premio di orlanda con 33 secondi di vantaggio su max verstappen e si proprio come quello vero proprio come il gran premio di orlanda vero è uguale uguale charles clerc è terzo sainz quarto e perez quinto dopo l'ultimo pit stop c'era perez che era terzo davanti alle due ferrari e le due ferrari evidentemente ci sono ripresi in pista la posizione sul messicano e il sorpasso delle due red bull sulle due ferrari è un sorpasso di strategia perché se andiamo a vedere qui la voce direttore di gara le due red bull hanno montato un secondo set di gomme intermedie di gomme soft nella prima sosta quindi hanno optato per un secondo stint molto molto aggressivo mentre le due ferrari hanno montato gomme medie durante il secondo pit e questo significa che durante il primo pit per il secondo stint cioè e questo significa che le due red bull si sono fermate prima delle due ferrari per fare l'ultima sosta e quindi hanno fatto poi un undercut decisivo per superare poi le ferrari che però si sono trovate nell'ultima parte di gara con gomme soft 9 contro gomme medie già vecchi di qualche giro delle due red bull ed è probabilmente per questo che le clerke sainz hanno preso ripreso e superato sergio perez che nell'ultima parte di gara aveva come meno performanti rispetto a quelle della ferrari dietro a ferrari red bull abbiamo lando norris che conclude in sesta posizione incollato a sergio perez poi doppiati addirittura dal settimo in poi tutti i doppiati almeno una volta fetter stroll gasli e zunoda a chiudere la zona punti poi abbiamo le due alpine di o con e fernando lonso doppiati due volte chimi raikkonen russell giovinazzi latifi schumacher doppiati tre volte malzepin ed io se non altro con l'ultimo giro che ho fatto ho fatto un giro record best lap migliore di quello di malzepin almeno una piccolissima consolazione comunque la ass nei nostri confronti è una astronave aver fatto un best lap migliore di quello di una ass è comunque un'indicazione incoraggiante così come è incoraggiante avere lottato praticamente a darmi pari con nikita malzepin per tutta la gara e l'avrei anche battuto se non fosse stato per quei due errori in rapida successione che ho commesso nell'ultima parte di gara però vabbè senza quegli errori sarei finito una sola posizione più avanti alla fine della fiera non cambiava praticamente nulla posizione di campionato lewis emilton torna in testa ma io torna si issa in testa la classifica perché mi sa che non c'era mai stato in testa al campionato sei punti di vantaggio su charles clerke 16 di vantaggio su altri bottas che fermo a 169 punti ormai da ben due gare poi perez 133 verstappen 129 ancora troppo distanti i due piloti red bull soprattutto considerando che lewis emilton è nettamente il pilota più in forma attualmente e quindi non ci sono i segnali per vedere i 56 punti di ritardo di verstappen a diminuire anzi sembra che andranno ad aumentare ancora in futuro tutto invariato per quanto riguarda la situazione dei team scrausi nessuno fra i piloti ass alfa williams e covete morto sport ha mosso la classifica campionato costruttore la mercedes a ben 77 lunghezze di vantaggio sulla ferrari 92 sulla red bull quindi lotta comunque molto accesa per quanto riguarda la seconda posizione nel campionato costruttori tutto invariato nelle posizioni di rincalzo tutto invariato anche per quanto riguarda la lotta per evitare l'ultimo posto in classifica evento di reparto vorrebbero farmi spendere 50 mila dollari per una mini serie online su artem marchelov cioè io penso sia altro che drive to survive una serie online sulla routine giornaliera di artem marchelov qui ragazzi facciamo concorrenza netflix qua subito beh purtroppo non è stata la più eccitante delle gare che ho disputato nella storia di questo canale però purtroppo ci sono anche gare noiose dove succede poco in particolare qui mi aspettavo un po di delirio visto che ci sono stati tantissimi errori di guida dei piloti della ya nelle gare qui in olanda su f1 2020 invece qui si escludiamo artem marchelov che si è schiantato da solo è stata una gara dove tutto è filato perfettamente liscio neanche una misera virtual safety car purtroppo quando non ci sono deliri aveva una macchina così inferiore che non possiamo combattere quasi contro nessuno poi anche marchelov il mio compagno di squadra l'unico che ha una macchina scarsa come la mia è esploso già a inizio gara se non altro me la sono giocata con nikita mazepin peccato però per quegli per quei due errori che ho commesso altrimenti gli ultimi giri potevano essere un po accesi però purtroppo per adesso la situazione la nostra situazione è una situazione abbastanza disperata siamo nettamente la macchina abbiamo nettamente la macchina più lenta in in assoluto probabilmente non riusciremo a rimediare a questa situazione almeno fino all'inizio della stagione 2 l'obiettivo chiaramente è quello di restare in decima posizione nel campionato costruttori evitare che l'ass ci raggiunga cosa che in teoria non dovrebbe essere possibile perché l'ass a punti non ci va è troppo scarsa per finire nei punti ma in pratica se in una delle prossime gare dovesse succedere il delirio e allora così come ho fatto 5 punti io e così come addirittura ne ha fatti 12 la tifi allo stesso modo potrebbe anche andare a punti l'ass e devo assolutamente essere sul pezzo per essere io ad approfittare di ogni eventuale delirio che potrebbe succedere di qui a fine campionato molto bene per questo video è tutto è l'appuntamento per il gp d'italia a fine campionato per il gp d'italia